L'Ucraina ha celebrato oggi il ventesimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica e il presidente Yanukovych ha presenziato la cerimonia ufficiale ma ha anche deciso di abolire le parate militari nei principali centri del paese per questioni di budget. Nel suo discorso Yanukovych ha annunciato la creazione entro l'anno di una zona di libero commercio con l'Unione Europea.